Musica Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale La Cronaca indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia per far luce sull'incendio che si è replicato a distanza di poche ore nell'area dell'ex discoteca Camino Real di via Mar Mediterraneo in Litorania a Ponte Cagnano-Faiano. Vigili del fuoco impegnati fino a tardanotte, poi ancora una volta questa mattina a bruciare. Sono stati cumuli di rifiuti depositati all'interno della struttura che da molto tempo è in totale stato di abbandono. Il primo servizio di oggi. Non c'è fine per l'ex discoteca della Litorania di Ponte Cagnano-Faiano, l'ex Camino Real. Ancora una volta peserebbe la mano di qualcuno con l'ipotesi di dolo per l'incendio che da ieri sera ha tenuto impegnati per domare le fiamme i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno. L'allarme scattato al centralino dei Caschi Rossi ieri sera intorno alle 19.30 con le operazioni di spegnimento che si sono concluse solo dopo la mezzanotte. Si è replicato anche questa mattina intorno alle 7.30 con l'invio sul posto di una squadra dalla sede centrale con due automezzi e un autobotte di supporto idrico. La struttura, in passato confiscata alla criminalità organizzata che il comune di Ponte Cagnano-Faiano avrebbe dovuto destinare ad un riutilizzo sociale, ancora una volta diventa scenario di indagine per le forze dell'ordine. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia agli ordini del maggiore Vita Antonio Sisto per risalire alla causa che si presume sia dolosa. Ex discoteca Camino Real, un bene confiscato alla criminalità e affidato al comune di Ponte Cagnano-Faiano già in passato era stato teatro di altri incendi più o meno gravi e stato avvolto ancora una volta dalle fiamme. In particolare a bruciare sono stati i cumuli di rifiuti depositati all'interno della struttura che da molto tempo è in totale stato di abbandono. I fumi della combustione erano visibili da molto lontano perciò sono stati allertati i vigili del fuoco che si sono recati sul posto immediatamente. Una volta sediate le fiamme per ridurre velocemente il rilascio di sostanze tossiche nell'aria l'area di circa 3.000 metri quadrati è stata limitata e transennata per impedirne l'accesso. L'incendio è stato di vasta portata è stato infatti necessario non solo l'intervento dei vigili del fuoco di Salerno ma anche di una squadra di giffoni. Lo spegnimento è stato effettuato con sistemi innovativi e schiuma con un accurato smassamento con mezzi meccanici ma questa mattina i caschi rossi sono tornati nuovamente sul posto allertati per un incendio nello stesso sito e sono intervenuti con una squadra dalla sede centrale con due automezzi e un autobotte. Salutando la città di Salerno il questore Maurizio Ficarra ha ricordato questa mattina le operazioni più importanti attuate nel suo periodo di permanenza alla questura di Salerno come l'inchiesta sulla pubblica amministrazione è elogiato il lavoro compiuto in squadra in modo particolare con il capo della procura e il dirigente della squadra mobile di Salerno. Sentiamo. Va via da Salerno il questore Maurizio Ficarra che dal primo giugno è in pensione ufficialmente ma anche felicemente come lui stesso ha dichiarato questa mattina in un'intervista di saluto con gli organi di informazione salernitani con i quali ha ricordato alcune delle operazioni più importanti messe a segno durante il suo periodo di permanenza a Salerno. Ficarra ha espresso parole di elogio per il lavoro fatto in modo particolare con il capo della procura di Salerno Giuseppe Borrelli e il dirigente della squadra mobile Marcello Castello anche lui promosso e spostato a dirigere il commissariato di Portici Ercolano. Tra gli interventi effettuati il questore ha ricordato l'inchiesta che ha riguardato la pubblica amministrazione gli appalti conferiti dal comune di Salerno alle cooperative sociali per i quali è ancora agli arresti domiciliari l'ex assessore alle politiche sociali Nino Savastano e poi le indagini sulle risse e le baby gang ma ha soprattutto sottolineato il buon lavoro di squadra Ancora non si sa chi lo sostituirà alla guida della questura di Salerno Allora iniziamo subito dai ricordi il ricordo almeno più bello che lascerà da Salerno che si porterà dietro da Salerno Il ricordo più bello che mi rimarrà di Salerno intanto sono due e di qualcuno già l'ho evidenziato in qualche altra occasione intanto le bellezze paesaggistiche di questa provincia meravigliosa quando sono arrivato a Salerno sono stato invidiato da una serie di miei colleghi che volevano venire e non fu possibile perché il capo della poesia assegnò me e quindi Salerno è una delle province più belle d'Italia Poi i ricordi più belli come ho detto qualche giorno fa sono stati i riconoscimenti che abbiamo avuto dalla gente per strada dalla gente comune per strada che all'indomani delle operazioni che facevamo ci incontravano quelli che ci conoscevano a me e i miei funzionari e ci dicevano grazie per quello che avete fatto e che state facendo per la nostra città gente comune, incontrata anche al supermercato o incontrata per strada Mi ha detto non farò un elenco delle cose più importanti però c'è qualche operazione, qualche intervento di cui va particolarmente orgoglioso lasciando Salerno? Beh sì, allora cominciamo all'inizio quasi quando io sono arrivato la città era allarmata e preoccupata da quello che avveniva sul lungomare sullo spaccio a cielo aperto sul lungomare noi dopo alcuni mesi che sono arrivato abbiamo fatto un'operazione in cui abbiamo arrestato 24 stranieri extracomunitari sappiamo che non è facile risolvere il problema solo con un'operazione che facciamo noi e anche le altre forze di polizia però quella operazione fu di alto impatto perché abbiamo eliminato uno spaccio che andava avanti da anni quasi sotto gli occhi di tutti io ricorderò a qualcuno di voi che questi vendevano pure la roba a gente con la carrozzina, mamma con la carrozzina che andavano a comparsi la droga quindi quella fu la prima operazione che ricordo che fu di impatto poi ovviamente noi abbiamo fatto anche tante indagini quelle verso i reati commessi nell'ambito della pubblica amministrazione abbiamo cercato di fare il massimo possibile in questa direzione perché io sono tra quelli convinti che quelli sono i reati più odiosi perché ovviamente sono odiosi tutti i reati quelli fatti dalla criminalità organizzata estorsioni, ricatti, tutto quello traffico di droga però i reati commessi da coloro a cui noi abbiamo dato la nostra fiducia col nostro voto cioè coloro a cui la gente nell'equimania ha deposto la propria vita i propri soldi, la propria fiducia e poi commettono dei reati negli interessi di bottega o di un sistema o di altro quelli sono i reati più odiosi e quindi io sono orgoglioso che insieme alla possibilità che abbiamo avuto grazie alla presenza del procuratore Borrelli in questa città del nostro capo della mobile Marcello Castello che voi conoscete tutti che adesso è stato promosso e lascerà la città anche lui e abbiamo indirizzato la nostra attenzione verso i reati della pubblica amministrazione ma non tralasciando alcune operazioni fatte nei confronti dei reati fatti dalla criminalità organizzata io ritengo che siamo andati in tutte le direzioni le bande dei ragazzi, dei minori che le risse, accoltellamenti voi sapete purtroppo sono stati tutti identificati tutti arrestati, tutti abbiamo fatto il DASPO sono tante le cose che abbiamo fatto però la cosa della quale vado più orgoglioso è l'avere lavorato con la mia squadra con la mia questura facendo in modo che tutti i miei collaboratori lavorassero in serenità e producessero quello che ci dicono forse che abbiamo prodotto e ci spostiamo nel Cilento perché è stato ritrovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia del lungomare di San Marco di Agropoli si tratta di un 55enne appartenente alla folta comunità Roma che vive nella cittadina cilentana il corpo dell'uomo presenterebbe anche delle ferite al volto e al corpo tra le piste al baglio dei carabinieri anche l'ipotesi dell'omicidio sentiamo giallo sul lungomare di Agropoli alle prime luci di stamane infatti il corpo nudo senza vita di un uomo è stato segnalato da un passante tra gli scogli e la riva di San Marco a recuperarlo, trascinandolo sulla battigia l'equip dell'ambulanza della Croce Gialla a corsa subito sul posto insieme ai militari della guardia costiera e ai carabinieri della locale compagnia allertato il magistrato di turno presso la procura della Repubblica di Vallo della Lucania si è proceduto all'identificazione della salma e all'esame esterno a cura del medico legale si tratta del 55enne Antonio Marotta alias o Ballerino noto pregiudicato appartenente all'omonimo clan Rom agropolese una ferita riscontrata alla testa e il volto tumefatto hanno indotto gli inquirenti a disporre rilievi più approfonditi eseguiti dai rissi di Salerno oltre al sequestro del cadavere per consentire l'esame autoptico al momento non si esclude alcuna pista compresa quella dell'omicidio l'uomo infatti camminava solo con l'ausilio di una stampella rinvenuta su un muretto del lungomare insieme a scarpe e alcuni indumenti i carabinieri agli ordini del capitano Fabio Lagarello hanno raccolto alcune testimonianze e passeranno a setaccio le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti sul lungomare per cercare di capire cosa sia effettivamente successo a Marotta forse pestato a sangue e colpito al capo con un corpo contundente per poi essere scaramentato in acqua per simulare un annegamento o un incidente in attesa di sviluppi investigativi la salma è stata trasportata presso la sala mortuaria dell'ospedale di Agropoli si aspetta l'esito dell'autopsia per chiarire i dettagli finora oscuri della vicenda e proseguono i controlli a tappeto dei carabinieri del comando provinciale di Salerno nell'agro nocerino sarnese nella valle metelliana soprattutto dopo i recenti episodi di criminalità degli ultimi mesi a Cava dei Terreni sono state ritrovate 5 pistole complete di munizioni e 4 bombe carta artigianali da elevate potenzialità allo stesso tempo sono stati arrestati 2 pregiudicati di 49 e 21 anni sentiamo 5 pistole ed anche urdigni ad elevata potenzialità esplosiva sono stati ritrovati dai carabinieri del reparto territoriale di Nocere Inferiore nell'ambito di una serie di perquisizioni in tutta l'area nord della provincia che il comando provinciale dei carabinieri agli ordini del comandante Gianluca Trombetti ha disposto dopo l'inquietante serie di attentati che ha riguardato proprio la cittadina dell'agro nocerino sarnese nel corso delle operazioni i carabinieri hanno sottoposto a sequestro nel comune di Cava dei Terreni le 5 pistole complete di munizionamento e 4 bombe artigianali sono poi in fase di approfondimento le responsabilità delle due persone del 1973 e del 2001 già note ai carabinieri che sono state arrestate in quanto ritenute colpevoli di avere a disponibilità queste armi sono in corso altre indagini che vedono al lavoro la procura della Repubblica di Nocere Inferiore con il dottor Antonio Centore finalizzate proprio a chiarire eventuali ulteriori responsabilità la provenienza delle armi ma soprattutto il loro possibile utilizzo in azioni delinquenziali e i carabinieri della Compagnia di Salerno hanno avviato anche in occasione dell'avvio della stagione estiva una campagna di monitoraggio nei confronti degli stabilimenti balneari presenti su tutta la costa di competenza inclusi i comuni di Vietri sul mare Cetara i controlli dei carabinieri già avviati da oggi si estenderanno per tutto il periodo estivo e riguarderanno sia le spiagge libere che gli stabilimenti balneari i cui gestori dovranno essere in possesso delle regolari licenze e concessioni dovranno rispettare alla lettera le prescrizioni previste anche relativamente agli spazi da occupare collettini ed ombrelloni fissi proprio relativamente a questo aspetto è alta l'attenzione dell'arma dei carabinieri per i militari tra le altre cose è fondamentale poter garantire ai cittadini la fruizione delle spiagge libere a questo infatti sono rivolti i controlli sul rispetto dei limiti perimetrali nei confronti degli stabilimenti balneari attrezzati e nei confronti di coloro che esercitano l'attività di noleggio delle attrezzature da spiaggia proprio questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti e delle relative licenze e la disposizione delle attrezzature sulle spiagge non dovrà svolgersi in maniera indiscriminata ma sarà subordinata all'effettiva presenza e all'effettiva necessità del bagnante che ne fa richiesta i controlli saranno effettuati anche unitamente al personale della polizia locale dei rispettivi comuni e il personale della Capitaneria di Porto di Salerno un'importante occasione di confronto e dibattito sui risultati conseguiti dalle attività di ricerca del progetto Campania Oncoterapie si è svolto questa mattina presso la sede della Fondazione Ebris in via De Renzi a Salerno tra cui un vaccino contro il tumore al fegato tutto questo alla presenza dei rappresentanti del mondo istituzionale e dei referenti del progetto di ricerca Identificazione precoce dei tumori, caratterizzazione dei profili di resistenza alla creazione di terapie alternative per i pazienti che non rispondono alle terapie convenzionali sono i tre obiettivi del progetto Campania Oncoterapie nell'ambito del quale è stato realizzato un nuovo vaccino contro il tumore al fegato i risultati del progetto di ricerca sono stati illustrati questa mattina presso la Fondazione Ebris un pollo di eccellenza internazionale dedicato alla ricerca scientifica nato nel 2012 in particolar modo è stato illustrato lo studio su un vaccino contro il tumore al fegato la terza causa di mortalità per tumore al mondo per cui l'approccio terapeutico è ancora limitato 23 partner dell'eccellenza biomedica campana nella lotta ai tumori hanno sviluppato una sinergia di competenze che ha portato allo sviluppo del vaccino con la formulazione di una cura innovativa che prevede l'utilizzo del farmaco antitumorale si tratta di una sperimentazione che potrebbe spalancare le porte ad un nuovo promettente percorso terapeutico è stato un team eccezionale di cui io mi pregio di essere piccola parte che ha raggiunto risultati compresi quello di un vaccino contro l'epatite B che non è cosa da poco non è cosa da poco perché la cognizione che il sistema immunitario giocasse un ruolo nei tumori è di recente apprezzamento e in tempi relativamente brevi si è capitalizzato su queste informazioni concettualizzando e poi sviluppando un vaccino che adesso abbiamo tra le mani il problema è adesso ovviamente direndolo operativo quindi questo non è la chiusura di un progetto ma è la chiusura di un percorso che ha gettato le basi per poi eventualmente vedere sull'atto pratico con trial clinici se questa cosa funziona o meno al di fuori del mondo cinese questo praticamente è l'unico vaccino terapeutico in sperimentazione in tutto il mondo e ci tengo a sottolineare anche perché questa è una cosa che non necessariamente risalta sempre che il tumore del fegato soprattutto se consideriamo la componente, la parte del mondo maschile è tra la seconda e la terza causa di morte al mondo per problemi oncologici ma è già chiaro chi potrà o dovrà farlo? allora in questo momento particolare quello che noi voi tutti sapete chiaramente che le sperimentazioni cliniche per avere un risultato vengono fatte su particolari pazienti quindi nel caso per esempio della nostra sperimentazione noi abbiamo arruolato pazienti in una fase medio precoce per verificare l'efficacia ma ovviamente se i risultati dovessero essere quelli che noi ci auguriamo domani tutti i pazienti potrebbero essere tutti i pazienti con tumore primitivo stiamo parlando di tumore primitivo non di metastasi quindi tutti i pazienti potrebbero giovarne di questo vaccino il sogno di essere la prima regione a produrre un vaccino contro i tumori alimentato dai risultati della ricerca presentati questa mattina presso la fondazione Ebris si scontra però con la sofferenza raccontata oggi anche del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che è intervenuto all'appuntamento prevenzione, liste d'attesa e carenze di organici alcuni dei problemi evidenziati dal governatore sentiamo è una sanità che sogna ma anche una sanità che soffre quella della campagna una sanità insomma a due facce quella che anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca racconta intervenendo alla presentazione della ricerca medica sulle oncoterapie 120 milioni di euro investiti nella ricerca che punta a fare della campagna la regione che realizzerà il primo vaccino contro i tumori in un territorio però che come ha evidenziato lo stesso governatore deve fare conti in questo momento con due problematiche lo stop alla prevenzione e l'attesa anche per gli interventi urgenti per i quali De Luca ha annunciato un'inchiesta sono stati prodotti risultati importanti abbiamo già avuto l'individuazione di geni e di farmaci che impediscono la moltiplicazione di cellule tumorali adesso dobbiamo passare alla sperimentazione clinica cioè dobbiamo progressivamente arrivare a sperimentare sugli esseri umani questi dati di ricerca a cui siamo arrivati ma l'obiettivo rimane quello di produrre in Campania il vaccino contro il cancro è un obiettivo ambizioso intendiamo rifare un grande investimento nella ricerca perché vogliamo arrivare assolutamente a questo risultato credo che abbiamo tutte le competenze mediche scientifiche per arrivare davvero a produrre qualcosa che sarebbe davvero un risultato straordinario per l'umanità intanto lei ricordava anche però la doppia faccia di questa sanità campana facendo riferimento ai problemi che ancora si registrano nonostante l'attivazione del CUP ci sarà un'indagine per capire quali sono i reali tempi di prenotazione sulle visite urgenti che ancora subiscono dei rallentamenti nonostante il sistema di prenotazione all'anno ho sottolineato due problemi che dobbiamo affrontare con grande determinazione noi abbiamo alle spalle due anni di Covid che hanno determinato un rallentamento dell'attività in alcuni campi gli screening oncologici si sono quasi fermati noi dobbiamo riprendere con estrema determinazione lo screening oncologico per quanto riguarda in modo particolare i tumori al seno alla cervice dell'utero al colon retto e faccio appello mi prego di rilanciarlo anche voi l'appello soprattutto alle donne alle giovani donne perché si facciano prendere in carico dalle ASL e avvino lo screening programmato per i tumori al seno a volte basta un po' di attenzione per evitare poi problemi seri se si interviene per tempo poi dobbiamo registrare i tempi di prenotazione per le indagini di laboratorio noi abbiamo realizzato una piattaforma un centro unico di prenotazione regionale proprio per mettere in condizione il cittadino di sapere dove c'è un posto libero per andare a fare un'indagine sapete che le prestazioni di laboratorio sono classificate come urgenti come programmabili e quant'altro le prestazioni urgenti devono essere erogate nel giro di pochi giorni mi viene detto che in tante realtà non è così che ancora i tempi di prenotazione per le prestazioni classificate ripeto come urgenti quelle programmabili si possono fare dopo un mese due mesi ma quelle urgenti vanno erogate nel giro di pochissimi giorni ed il presidente della regione Campania ha intervenuto anche sull'emergenza Barrelle alla Cardarelli sta accadendo al Cardarelli esattamente quello che sta succedendo in tutta Italia né più né meno hanno tentato di fare una speculazione ma dopo 24 ore si è capito che in realtà questo problema riguardava il Cardarelli ma riguardava Milano Roma Torino Genova Bologna la verità è che abbiamo un ministero e la salute che continua a dormire in piedi perché non ci sono medici per i pronto soccorsi e la Campania ha una sofferenza in più perché è la regione che ha il deficit più alto di medici per l'emergenza ce ne mancano 800 allora problemi nazionali carenza di medici problemi che riguardano i medici dell'emergenza e anche cattive abitudini nel pronto soccorso si va per problemi seri non per il taglio al dito quando si sta a fare qualche lavoro in cucina ed andiamo avanti con il nostro telegiornale far conoscere al grande pubblico la scuola superiore per mediatori linguistici la sua offerta formativa si è svolta questa mattina a San Cipriano Quicentino l'open day organizzato dalla fondazione Teseo l'ente di gestione della scuola superiore per mediatori linguistici di Salerno sentiamo un confronto con i ragazzi sulla comunicazione con docenti ed esperti tali da favorire il confronto con l'attualità e sostenere la scelta formativa si è svolto questa mattina a San Cipriano Picentino un open day organizzato dalla fondazione Teseo ente di gestione della scuola superiore per mediatori linguistici di Salerno riconosciuta dal ministero dell'università e della ricerca un appuntamento utile a far conoscere al grande pubblico la scuola superiore per mediatori linguistici la sua offerta formativa consistente in corsi di studio triennale di mediazione linguistica summer school e master professionali e a presentare docenti e componenti dei percorsi di studio sono particolarmente onorata di essere qui anche perché ci tenevo molto a fare il discorso diciamo di inaugurazione proprio perché da ministra ho lavorato per qualificare questa tipologia di scuola perché passare secondo me dall'interpretariato alla mediazione linguistica e culturale in tempi come questi diciamo che è uno degli elementi di innovazione secondo me particolarmente importanti e tra l'altro che sono anche molto utili e servono dentro ai contesti globali nuovi nel corso dell'incontro è stato assegnato il premio nazionale Teseo scuola superiore per mediatori linguistici di Salerno un riconoscimento conferito annualmente a personaggi del mondo politico sindacale culturale scientifico ed accademico che si sono distinti per attività di particolare interesse svolte nei rispettivi campi di competenza nel panorama nazionale ed internazionale presenti all'appuntamento tra gli altri il sindaco di San Cipriano Picentino Sone Alfano il presidente della fondazione Teseo nonché direttore della scuola Stefano Amodio la senatrice Valeria Fedeli già ministro della pubblica istruzione dell'università della ricerca l'europarlamentare Alessandra Moretti è un progetto che oggi si realizza un sogno che si realizza importantissimo per il territorio come ho detto questo territorio esprime cultura storia e quindi l'istituto Teseo completa il nostro bagaglio appunto culturale importante non solo per San Cipriano l'istituto Teseo ma sarà importante per l'intero territorio di Vicentini e della provincia di Salerno essendo poi l'unico istituto che appunto ha attivato questo corso di mediazione linguistica e quindi per noi è un onore averla sul territorio Allora io mi confronterò con i ragazzi sui temi della comunicazione politica quindi ripercorreremo insieme nella storia come è cambiata la comunicazione politica quanto influiscano anche le fake news quindi le false informazioni e quanto appunto l'opinione pubblica possa essere condizionata da infiltrazioni di informazioni che magari provengono da paesi che vogliono influenzare l'opinione pubblica italiana pensiamo ad esempio a come abbiamo comunicato la pandemia al pubblico così come stiamo comunicando al pubblico il grande tema dell'Ucraina quindi della guerra Marco Di Pasquale il titolare della pizzeria salernitana il giardino degli dei ha vinto il premio pizza talent show con una pizza gourmet una pizza realizzata con provola di aggero la ricotta noci lardo di colonnato e miele sentiamo e il pizzaiolo salernitano Marco Di Pasquale a vincere a conquistare il titolo di campione del pizza talent show la competizione che per settimane ha appassionato gli amanti dell'arte bianca e non solo su Alma TV 700 i pizzaioli d'Italia che in varie tappe si sono sfidati a colpi di pizza dopo una lunga battaglia andata avanti per settimane Marco Di Pasquale titolare della nota pizzeria il giardino degli dei di Salerno che da anni partecipando a numerosi concorsi e gare si è classificato sempre tra i primi posti è riuscito a vincere anche il premio pizza talent show con una pizza gourmet una pizza realizzata con provola di aggero la ricotta noci lardo di colonnato e miele sì esattamente abbiamo fatto questo talent televisivo che giustamente ci ha portato a una vittoria straordinaria con 700 concorrenti in tutte le tappe ottave di finale quarti di finale semifinale siamo riusciti ad andare in finale che si è tenuto a Roma nei pressi dello studio di una rete televisiva Alma TV ci ha portato la vittoria 700 concorrenti come si è svolta questa competizione che tipo di pizza avete realizzato? niente abbiamo realizzato che ogni tappa si faceva una pizza pizza innovativa calzone pizza gourmet pizza contemporanea abbiamo fatto ogni tappa di ogni tappa aveva la sua pizza noi ci siamo classificati sempre nei primi tre per andare avanti e poi ci hanno portato alla finale con quale pizza avete vinto il primo premio? abbiamo vinto il primo premio con la pizza provola di aggerola ricotta noci lardo di colonnato e miele una pizza che Marco Di Pasquale ha già a menù oppure sarà una novità per i prossimi giorni? no sarà una novità nei prossimi giorni però chi la vuole degustare nei nostri locali si chiama Pizza Talent Show è il nome abbiamo dato abbiamo dato proprio alla trasmissione televisiva che abbiamo vinto Marco è una vita che tu partecipi a competizioni la pizza è un po' la tua vita ancora una volta anche questa volta ci ha messo tutto il tuo impegno fino a superare 700 concorrenti insomma un traguardo importante hai detto parole sante la pizza è la mia vita io sono 36 anni che faccio questo mestiere l'ho fatto sempre a alti livelli e sempre lo farò a alti livelli perché quando uno si scoccia di fare il mestiere non deve fare più questo mestiere deve cambiare mestiere quindi è la passione è la tradizione che uno giustamente può portare avanti e speriamo che la porteranno avanti anche tutti i miei colleghi con molta molta passione oggi la pizza è un piatto di eccellenza un piatto dove si punta alla qualità nella scelta soprattutto di ingredienti del territorio sì sicuramente sicuramente ci sono locali pizzerie siamo perché ci mettiamo che vanno sempre in cerca di nuovi ingredienti sulla pizza di stravolgere la pizza fare un impasto un po' più napoletano però noi siamo sempre per la tradizione io la pizza la faccio sempre da 35 anni quell'impasto quella pizza ci porta a successo è ora il momento di dare spazio alla nostra rubrica alla pagina degli appuntamenti al Cinemateatro San Demetro di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film Top Gun Maverick tra gli spettacoli alle ore 17 alle 19.30 e alle 22 ingresso intero 7 euro ridotto 5 euro e il giovedì non festivo ingresso unico 5 euro per informazioni 089 2204 89 andiamo ti divertirai te lo prometto parleremo di sport di Stadio Arechi quest'oggi incontro tra Salernitana e Comune di Salerno ma lo facciamo tra poco subito dopo la pubblicità in collaborazione con a sape a a a a a a Grazie a tutti. Eureka, la tua estate. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo di calcio. La Salernitana è già proiettata verso la prossima stagione. Il presidente Iervolino riparte dal DS Sabatini e dal tecnico Nicola. Quest'ultimo chiude la stagione con un prestigioso riconoscimento che gli è stato assegnato a Rimini dalla Panini. Intanto è già tempo di mercato. Sentiamo. Ma erano emersi desideri e richieste che la proprietà ha accolto senza stupore, ritenendoli più che legittimi dopo il grande lavoro portato avanti da metà febbraio in poi. Tre mesi per un'impresa fatta di applicazione, lavoro, studio, competenze e conoscenza. Ed allora Davide Nicola ha chiesto un riconoscimento ulteriore per sentirsi ancora di più al centro del progetto. Contratto annuale con opzioni e bonus sostanziosi per poter premiare il lavoro fatto da Nicola e il suo staff. Dopo l'intesa verbale la firma diventa una formalità. Ieri sera il tecnico ha partecipato ad una festa organizzata dalla famiglia Iervolino a cui era presente anche Ribery. Clima sereno, disteso, rilassato, tutto insomma fa pensare che il matrimonio sia già stato celebrato. Nicola guiderà ancora la sanità e lo farà dall'inizio avendo così la possibilità di dare un indirizzo alla programmazione e al lavoro fin dal ritiro avendo anche voce in capitolo sul mercato. Giorni importanti per il trainer piemontese premiato a Rimini come allenatore dell'anno dalla Panini ed in corsa anche per la panchina d'oro per la quale proverà a superare di nuovo il collega Stefano Pioli. Il mercato della Sanitana sarà l'insegna degli investimenti in ottica futura. Sabatini a caccia di altri colpi in stile Ederson e Boinen ma dovrà anche sfoltire una rosa molto affollata e con tanti elementi che non rientrano nei piani. Per la fascia ci sarebbe anche l'idea Cambiaso, terzino ambidestro del generale che un altro anno ricontratto col Grifone ma andrà via in estate. Per lui dopo le voci sulla Juve si registra anche l'interessa dell'Inter. Si valuta anche lo svincolato Goulam in uscita dal Napoli ma riduce da stagioni condizionate da troppi infortuni. Dal club azzurro potrebbe arrivare l'Algeri in un ass mentre il centravanti Petagna potrebbe essere la riete giusto nel caso di mancato rinnovo di Diuric. Tra gli svincolati d'occhio c'è un vecchio pallino di Sabatini, Mattia Destro, nove gol nell'ultima stagione al Genoa. Verdi è in cima alla lista e per il suo ritorno stavolta a titolo definitivo si sta già lavorando col Torino. Più difficile riportare a Salerno Bonazzoli il sogno di Ervolino e Cavani mentre Sabatini continua a sondare il mercato sudamericano e dell'est Europa. Christoffersen si bulta Morlando, Mantovani, Micae Simi. Gli annoni sono alcuni calciatori che torneranno alla base per Bogdan-La Ternana ha il diritto di riscatto. Questa mattina si è tenuto un incontro tra Salernitana rappresentata dal ministratore delegato Maurizio Milan e dalla responsabile alla comunicazione Mara Andrea e l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Vincenzo Napoli e dal suo staff dove è stato approfondito ulteriormente il tema della convenzione per l'utilizzo dello stadio a Rechi nella prossima stagione sportiva. A seguito del confronto si è convenuto di avviare un tavolo operativo che dovrà rapidamente portare alla definizione del documento finale. Parallelamente l'amministrazione comunale di Salerno ha aggiornato la società in merito alla concessione dell'impianto dello stadio a Rechi comunicando di aver avviato una riflessione che porterà nei prossimi mesi alla definizione dell'iter da seguire e del progetto definitivo. La salernitana ringrazia l'amministrazione comunale di Salerno per la consueta e rinnovata disponibilità. Convenzione per la Rechi dunque al centro del dialogo tra club Granata e Comune anche perché incombono le prime scadenze. La nuova stagione è già dietro l'angolo. La Serie A sarà un campionato senza respiro da metà agosto a metà novembre. Dai primi giorni di luglio la salernitana tornerà in campo per preparare la prossima stagione. Per il secondo campionato consecutivo in Serie A, il quarto in assoluto della storia, il club Granata vuole partire per tempo e fare tutto per il meglio. Visite mediche, test atletici e preraduno in sede prima di partire per l'Austria. Nella località tirolese di Mills la salernitana arriverà intorno alla prima decada di luglio per restarvi una quindicina di giorni circa. In ritiro all'estero per la prima volta nella sua storia, la squadra Granata sosterrà anche delle amichevoli internazionali approfittando della presenza in zona di diversi club tedeschi e non solo. Poi si comincerà a scendere di quota per la seconda fase della preparazione che dovrebbe svolgersi a Rivi Sondoli. Il 5 agosto comincerà la Coppa Italia, mentre nel weekend di Ferragosto scatterà il campionato. Fino a metà novembre si giocherà tanto, visto che sono in calendario anche gli impegni delle nazionali e di primi turni delle Coppe europee. Al momento della sosta per i mondiali del Qatar, la Serie A avrà già disputato 17 delle 19 gare del giorno di andata. Per i calciatori impegnati nella Coppa del Mondo sarà una stagione più che intensa. I club italiani potrebbero scegliere di impegnare il periodo di stop del campionato con un torneo all'estero. Si giocherà tanto, specie in un periodo dell'anno molto caldo, quello tra agosto e metà settembre, per cui sarà importante partire bene e disporre di una cosa attrezzata e anche abbastanza folta per poter sostenere i ritmi alti di un calendario più che mai intasato. L'attenzione dei tifosi nata è rivolta al mercato, ma anche al 19 giugno, data simbolo della passione e della storia per il calcio saleritano. Tifosi in fermento, società pronta a fare la sua parte per un compleanno da ricordare ancora di più, visto che si potrà festeggiare la prima salvezza e massima serie della storia. Ed ora il basket, Cantu è già in finale, la Givova Scafati proverà a raggiungerla domani in occasione di gara 4 che si disputerà ancora a Piacenza. Ieri la squadra di Rossi si è resa di misura sul parquet dell'Assigieco nel terzo atto della serie ed ora vuole chiudere i conti senza aspettare la bella. Ascoltiamo in proposito proprio il coach Rossi. Sì, è chiaro che è quello che ci aspettavamo. Avevamo detto prima la partita e dovevamo cercare di riuscire a fare un passo ancora in avanti. Oggi non l'abbiamo completato questo passo perché evidentemente la gestione del vantaggio nel quarto quarto non è stata precisa e a questo abbiamo aggiunto una grossissima fatica nel leggere il metro arbitrale. Anche tante ingenuità commesse da parte nostra in questo senso, ma facciamo fatica perché chiaramente quando abbiamo alla fine della partita 23 tiri liberi a 7 credo anche con Piacenza e chiude l'aria molto bene. Quindi comunque con i nostri lunghi che tirano spesso con contatti significa che dobbiamo fare un passo in più nel capire che cosa dobbiamo fare perché chiaramente non va bene. Direi che la partita si è decisa anche poi sulle piccole cose perché alla fine l'ultimo tiro loro è un po' l'emblema di tutta la partita, rimbalzo lungo che finisce nelle mani loro, l'ultimo tiro di Gaic dove poi non ci siamo potuti costruire l'opportunità di un tiro migliore negli ultimi 20 secondi. Quindi è chiaro che sono i playoff, quindi non è che possiamo pensare di venire qua e avere una partita facile, è stata difficilissima, però ci siamo spenti un po' negli ultimi 5 minuti anche se devo dire che abbiamo costruito dei tiri super aperti per tutta la partita che abbiamo a fase alterna segnato. Infatti quando abbiamo cominciato a far canestro siamo andati magari via nel terzo quarto mentre negli ultimi 5 minuti quegli stessi tiri presi secondo me con qualità ottima sono usciti. Però è evidente che lo step in avanti lo dobbiamo fare difensivamente perché chiaramente tra rimbalzi e situazioni di uno contro uno è la terza partita nella quale abbiamo delle difficoltà oggettive su cui dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni rapidamente. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rinvio alle prossime edizioni. Grazie come sempre per essere rimasti con noi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.